Gennaro Damiani, conosciuto nell'ambito della musica neomelodica partenopea come Genni Fenni, ha tentato il suicidio come lui stesso dichiara. L'ambulanza del 118 lo aveva soccorso sulla scogliera del lungomare di Margellina, dove era stato trovato in stato di incoscienza dopo che alcuni ragazzi erano riusciti ad estrarlo. Ho avuto un calo di successo che mi ha portato a fare il pacchettore abusivo per mantenere la mia famiglia, perché avevo necessità. Poi è successo tantissime cose brutte della mia questione del pacchettore abusivo e proprio così è arrivato appunto che è successa una cosa brutta che mi stavo suscitando. Non ragionavo più, sono rientrato anche in depressione, il lavoro non c'era, eccetera. Per mantenere una famiglia sapete che significa? Il suo procuratore, che lo segue da dieci anni, sottolinea l'importanza di raccontare un evento così drammatico. È un atto di denuncia che fa emergere il difficile periodo per il mondo artistico della musica. La vicenda di Genni, insomma di Gennaro Damiani in arte, Genni Fenni, è la storia che diciamo tecnicamente magari può riguardare milioni di telespettatori, perché ho tantissimi ragazzi e ragazze che in questo momento vivono un momento difficile dovuto a una bassa pressione che riguarda il lavoro, il settore lavoro e soprattutto poi per chi lavora nell'ambito dello spettacolo è praticamente un qualcosa all'ordine del giorno. Lui adesso sta affrontando un altro percorso di cura psichiatrica e poi chiaramente l'affetto dei suoi fan, l'affetto delle persone che gli vogliono bene, della famiglia, della moglie, del figlio. E in questo momento non solo artisti, ma anche, questa è una novità, è una cosa importante, degli imprenditori napoletani si stanno smobilitando per dare un aiuto anche economico e quindi un sostegno al ragazzo. Nonostante questo, il coraggio di Jenny di non nascondersi e l'epilogo al lieto fine di questa vicenda vogliono essere per tutti un monito, un messaggio di speranza per quanti si trovano ad affrontare un momento difficile della propria esistenza. E voglio mandare un messaggio a tutte queste persone, a tutti questi giovani soprattutto, di non fare tutto quello che ho fatto che è una cosa sbagliata perché Dio si può dispiacere, perché la vita è un oggetto molto prezioso.